Il paziente si è presentato affetto da severa parodontite e atrofia ossea. Il quadro clinico gravemente compromesso ha richiesto l'estrazione totale dei denti e la ricostruzione ossea nelle zone da 13 a 23 e seguita dall'inserimento degli impianti tramite chirurgia guidata. Due barre in titanio sono state prodotte a supporto dei provvisori a lungo termine, realizzati in resina Temp Premium. Il provvisorio completo è stato quindi inserito nella bocca del paziente. Dopo alcuni mesi di prova sono stati creati i due circolari definitivi, utilizzando la zirconia Prettau 2. I restauri sono stati colorati con color liquid Prettau 2 Aquarelle e successivamente sinterizzati. Dopo la sinterizzazione, le strutture sono state caratterizzate con Ice Stense 3D e stratificate nella zona anteriore e gengivale con Ice Ceramics. Le barre in titanio sono state anodizzate in oro e poi cementate nelle strutture in zirconia. Dopo il controllo nell'articolatore, il restauro finale è stato inserito nel cavo orale. Il restauro ha soddisfatto le aspettative del paziente ristabilendo un'occlusione naturale senza l'insorgere di alcuna complicanza.